sempre alle stelle poi per quanto mi ricordo ancora di più perché quando sono da solo tra due donne posso mettermi al centro e pavoneggiarmi diciamo di questo dai siamo belli carichi siamo siamo pronti anche per quest'anno devo una bella energia un bel uragano un bel uragano di energia farei fare una battuta di Elisabetta mi fa volare con questo uragano fuori da ieri a mezzanotte e quindi ci darà ancora più carica e più energia io felicissima però nel ventunesimo anno per me il settimo la condizione di partiti live quindi non vediamo l'ora tutti e anch'io non vedrò di salire su questo palco beh ci saranno delle novità ci saranno delle importanti novità che non so se vi possono già raccontare che guardano Maria Sole ma non credo sarete costretti a guardare il programma a guardare battiti beh l'uragano ce l'abbiamo sempre che sono Alan e Elisabetta e devo dire che noi siamo una grande squadra e quando arriviamo a battiti è un po' come cominciare ufficialmente l'estate e io mi sento a casa e non vedo l'ora veramente di iniziare questo show con tante novità perché comunque anch'io sono più cresciuta e sono cresciuta comunque con loro e quindi ogni anno ho dei ricordi anche personali legati a questo show quindi veramente non vediamo l'ora di salire su quel palco insieme come sempre ci siamo siamo nel cuore della musica grazie grazie